Io sono leggenda barra trailer e streaming del film su Italia 1 il film con Will Smith, oggi, 4 dicembre 2017. Il film d'azione in prima serata su Italia 1 Io sono leggenda, film Italia 1 4 dicembre ore 21.25, Italia 1 ci porta nel fantascientifico mondo di Io sono leggenda, film del 2007 diretto da Franci Lavrence. La pellicola è il terzo adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Richard Mateson dopo l'ultimo uomo della Terra del 1964 e 1975, Occhi bianchi sul pianeta Terra del 1971. Durante la conferenza stampa di presentazione del film a Will Smith, protagonista del film, è stato chiesto cosa rende così attuale questa storia. Secondo me questa storia include due paure fondamentali dell'essere umano, l'idea di rimanere solo al mondo senza sapere cosa fare ed il fatto che possa nascondersi qualcuno là nel buio pronto a fare del male. Credo che Akiva e Francis siano stati incredibili e brillanti nel rivisitare questo racconto. Il regista Francis Lavrence ha aggiunto, il romanzo, scritto da Mateson negli anni 50, possiede idee decisamente moderne che funzionano ancora oggi e che, quindi, grazie agli elaborati effetti speciali attuali abbiamo potuto concretizzare sullo schermo. Il film, clicca qui per vedere il trailer del film, è stato girato principalmente a New York, che grazie agli effetti speciali appare deserta. Io sono leggenda va in onda su Italia 1 a partire dalle 21.15, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui. Io sono leggenda, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 4 dicembre 2017 alle ore 21.25. Una pellicola d'azione che è stata interpretata da Will Smith, Sally Richardson, Willow Smith, Alice Braga, Dashmioc e Charlie Ta'an. La pellicola è stata diretta da Praknis Lavrence nel 2007 e totalmente ispirata all'opera romanzata omonima scritta da Richard Mateson. Si tratta del terzo adattamento cinematografico del romanzo e probabilmente quello più affine alla storia originale del libro. Io sono leggenda è uscito nei cinema statunitensi nel dicembre del 2007 e nelle sale cinematografiche italiane nel gennaio dell'anno successivo. Ad interpretare il protagonista, Robert Neville, è Will Smith, uno degli attori statunitensi più amati al mondo. Alcuni dei film più celebri a cui ha preso parte sono Man in Black, La ricerca della felicità, Collateral Beauty e Itch, lui sì che capisce le donne. Ma ecco nel detattolo la trama del film. Nel 2012 un virus genetico, creato in laboratorio nel tentativo di debellare il cancro, annienta l'intera umanità. L'unico uomo rimasto in vita sembra essere Robert Neville. Parte delle persone infette non sono morte, trasformandosi in mostri geneticamente modificati che hanno ucciso i pochi superstiti della terribile epidemia. Neville, che prima delle catombe era un abile estimato virologo, ha costruito un laboratorio all'interno nel suo appartamento di New York dove conduce continui esperimenti nel tentativo di trovare un possibile antidoto all'epidemia. Di notte si barrica in casa mentre di giorno può liberamente vagare per le via della Grande Mela, i mostri infetti non possono esporsi alla luce del sole. Ogni giorno, oltre a guardare e riguardare i video della sua famiglia, invia un disperato segnale radio nella speranza di intercettare altri sopravvissuti, invitandoli a presentarsi al porto. Col passare del tempo Robert si convince sempre più di essere l'unico uomo rimasto sulla Terra e quando alcuni mostri infettano il suo cane Sam, il suo unico interlocutore vivente, l'uomo decide di uscire di notte per uccidere il maggior numero di infetti possibile. Robert sembra essere ormai spacciato, con tre degli infetti che stanno per assalirlo. Improvvisamente l'uomo viene tratto in salvo da una donna e da suo figlio, anche loro completamente immuni del virus. I tre si rifugiano immediatamente all'interno del laboratorio di Robert dove quest'ultimo scopre che l'esperimento fatto su una cavia umana infetta sta funzionando. La donna è infatti in via di guarigione. Il virologo decide così di prelevare un campione di DNA della cavia e consegnarlo ad Anna. Robert, alla fine, per permettere ad Anna e suo figlio di fuggire decide di farsi esplodere, uccidendo tutti gli infetti a corsi nel suo laboratorio.